Si è tenuto in provincia un nuovo incontro per fare il punto della situazione sul comparto fotovoltaico dopo il blocco degli incentivi da parte del Governo. Abbiamo ritenuto opportuno all'interno di questo tavolo istituzionale che coinvolge dai parlamentari, ai consiglieri regionali, al sindacato e alle aziende del settore elaborare una proposta che tutela il settore e l'occupazione e allo stesso tempo rimodula gli incentivi nei prossimi anni in modo tale da evitare che ci sia un appesantimento da parte delle uscite dello Stato negli incentivi del fotovoltaico. E dall'altra parte appunto venga mantenuto il settore così come attualmente si sta sviluppando. La proposta prevede che gli incentivi siano mantenuti fino al 30 di settembre di quest'anno e successivamente fino a fine anno mensilmente ci sia una riduzione graduale nell'ordine del 3% fino ad arrivare appunto al 2016 con la parità dei costi e quindi l'eliminazione dell'incentivo. Grazie. Grazie 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 Grazie